OST 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Repa e Parks Town, l'azienda di distribuzione ricambi originali per le aziende dell'Oreca e del vending e siamo in compagnia del direttore vendite Italia Stefano Rocchi. Caro Stefano, benvenuto. Grazie, grazie. Buongiorno Fabio. Buongiorno a te, buongiorno da parte tua a tutti loro. Per te è un esordio sugli schermi di orecatv.it che vede parlare molto spesso di Repa, di Parks Town, di Ateli, tutte quelle che sono le società collegate al servizio che voi andate a realizzare per il settore. In un minuto la storia di Repa. Ok, Repa è il principale distributore di ricambi per i settori, come dicevi tu, dell'Oreca, del caffè espresso, dei distributori automatici e nel settore domestico. Noi abbiamo unito le forze di tanti distributori europei qualche anno fa e adesso chiamandoci Repa diciamo abbiamo unito le forze, abbiamo strutturato di più i magazzini e nel 2022 siamo diventati una divisione della Parks Town che invece è il più grande distributore e rivenditore di ricambi mondiale e assieme a loro stiamo costruendo, realizzando un'altra meravigliosa avventura che è quella di unirci ai produttori di apparecchiature per diventare il loro braccio destro nella distribuzione dei ricambi loro perché effettivamente la nostra forza è la logistica, la tecnologia, l'e-commerce, siamo velocissimi e la nostra professionalità viene riconosciuta anche da numerosi produttori che vediamo qui rappresentati dove dobbiamo cambiare le schermate perché sono tanti e sono tanti ancora quelli che stanno arrivando perché finalmente possiamo anche considerarci circolari nell'economia di un'apparecchiatura perché insieme al produttore noi riusciamo a garantire il servizio di assistenza tecnica nel giro di poche ore tutti nel mondo possono riparare un'apparecchiatura. E non parliamo solo di apparecchiature ma addirittura anche di materiali di consumo come nel caso di filtri per la depurazione dell'acqua di BWT Water & More, Brita e così via. Sì assolutamente, sono tutti i marchi che vedete qui sul tabellone dove con un clic possiamo capire qual è la partnership che abbiamo sviluppato e anche gli accessori ovviamente i prodotti di lavaggio sono costantemente nei nostri magazzini e i clienti diciamo che con un clic riescono ad avere tutto a casa propria oppure addirittura nella cucina che va servita. Io al solo pensiero di immaginare la grandezza o per meglio dire l'immensità dei vostri magazzini inizio ad essere sbigottito perché immagino davvero con centinaia di partner che vi forniscono quotidianamente materiale di ricambio e voi che dovrete naturalmente tenerli lì al posto giusto nel momento giusto, poterli andare a prelevare immagino spesso anche con un sistema di automazione assolutamente innovativo, insomma tanta roba. Sì Fabio, infatti abbiamo dovuto allestire una parte dei due stand che abbiamo con delle visite virtuali all'interno di alcuni dei nostri magazzini perché sono delle città in cui moltissime strade, moltissimi robot portano i componenti ordinati in uno stesso punto, il tutto viene imballato e viene spedito. Noi solo in Europa facciamo un milione di spedizioni all'anno cioè è una situazione in cui siamo felicissimi di poter essere sempre più veloci, sempre più precisi e sia i clienti con i quali siamo nati che i produttori che oggi vengono e lavorano insieme a noi ci danno una soddisfazione enorme. Stefano, a chi vi rivolgete? Qual è il vostro target? Solo concessionari, rivenditori o anche utenti finali? No, noi ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno bisogno di un ricambio e tutti coloro che lo producono il ricambio, per cui lo inseriscono all'interno della loro apparecchiatura e per cui i nostri ricambi arrivano all'industria, arrivano al service locale, oppure arrivano all'utente finale attraverso ovviamente dei canali che si approcciano nel B2C. Per cui noi siamo completi, cioè chiunque può avere ricambi da Repa a Partstown. Ovviamente saranno diverse le logiche distributive. Stefano, allora, visto che abbiamo spiegato a chi rivolgete questo servizio, per chi desideri entrare in contatto con voi, avere maggiori informazioni, fare anche un ordine e quindi iniziare una relazione commerciale con Repa, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere naturalmente, senza alcun impigno. Sì, io invito tutti quanti a visitare il sito così che possano avere un quadro più chiaro di cosa è Repa e di quali sono gli strumenti di vendita. Comunque sotto Repa potrete trovare in qualsiasi nazione d'Europa tutte le informazioni nel web oppure scrivere a commerciale chiocciola repagroup.com. Bene, allora, intanto io ti ringrazio per essere stato breve, coinciso e quindi aver dato l'idea di che cos'è questo gigante mondiale che si occupa di distribuzione di ricambi per l'oreca e per il vending. L'abbiamo fatta semplice, ma credetemi, se andate a guardare i filmati con le visite virtuali, vi garantisco che è impressionante la quantità e la qualità dei prodotti offerti al mercato da Repa insieme a Partstown. Io ti ringrazio. Ciao Stefano. Grazie Fabio, grazie a tutti. Ciao.